Gentilissimo dottor Leopalco, sono il papà di Serena, affetta da una gravissima patologia genetica che per la sua condizione di disabile al 100% usufruisce di servizio ADI di terzo livello e di terapie riabilitative che abbiamo dovuto sospendere a causa del Covid-19, in quanto soggetto immunodepresso con patologia ad alta complessità. Comincia così la lettera inviata da Massimo Quaranta, presidente di Vite da Colorare, associazione ionica malattie rare e neurologiche Gravi Onlus e componente del direttivo della rete di malattie rare Amare Puglia. Una mail è inviata all'indirizzo del professor Lopalco, del dottor Montinaro e del governatore di Puglia Emiliano, nella quale si esprime tutta la preoccupazione per la proposta di ripresa dell'ADI e della riabilitazione fatta dagli enti preposti. Nella fattispecie scrive Cooperativa San Bernardo per l'ADI e l'Osma-IRM per le terapie riabilitative. Ma quali garanzie ci vengono proposte? Chiede. Protezione individuale basta, quindi questo personale che gira le famiglie può essere probabilmente portatore di virus, i classici positivi e asintomatici. Anche le famiglie a loro volta si potrebbero trovare nella stessa condizione e contagiare quindi gli operatori. Per questo Quaranta ha chiesto per il concetto di prevenzione iniziale di far effettuare tamponi e screening ematico a famiglie ed operatori. Ciò non toglie che in seguito ognuno di noi prosegue potrebbe essere contagiato ma credo che per la tranquillità delle famiglie e degli operatori si debba almeno concedere questa possibilità. Quaranta non parla di persone normodotate, lo specifica, ma di persone estremamente complesse, quindi persone speciali. In attesa di una risposta in fondo alla mail, il recapito telefonico dovesse qualcuno voler parlare telefonicamente con un uomo che da anni è impegnato contro barriere architettoniche e mentali.